Sessanta In banca Vorrei aprire un conto. Ecco il mio passaporto. Ed ecco il mio indirizzo. Ed ecco il mio indirizzo. Vorrei fare un versamento sul mio conto. Vorrei fare un prelievo dal mio conto. Vorrei ritirare l'estratto conto. Vorrei incassare un assegno. Vorrei incassare un travel check. Vorrei incassare un assegno. Travel check. Quant'è la tariffa? Dove devo firmare? Sto aspettando un bonifico dalla Germania. Sto aspettando un bonifico dalla Germania. Ecco il mio numero di conto. Ecco il mio numero di conto. Sono arrivati i soldi? Sono arrivati i soldi. Vorrei cambiare questi soldi. Vorrei cambiare questi soldi. Mi occorrono dollari USA. Mi occorrono dollari statunitensi. Per favore, mi dia banconote di piccolo taglio. Per favore, mi dia banconote di piccolo taglio. C'è un bancomat qui? C'è un bancomat qui? Quale somma si può prelevare? Quali carte di credito si accettano?